in pillole qual è l'argomento della tecnica vocale di oggi il motore del canto colpo di tosse al mio 3 tutti insieme un colpo di tosse 1 2 3 1 2 3 adesso al mio 3 tutti quanti uno starnuto 1 2 3 di nuovo al mio 3 uno starnuto 1 2 3 adesso immaginate che arrivi dracula dalla finestra e al mio 3 facciamo il gesto di una persona che scopre dracula 1 2 3 cosa succede mi riempio di colpo d'aria ma tutte le azioni vivono nella zona dell'addome tutte le azioni vivono nella zona dell'addome tutte le azioni il motore del canto vive nella zona della pancia intorno all'ombelico